Negri Sud ancora col fiato sospeso, solo una seduta di insediamento per la neonata fondazione. A questo è servito il CDA dell'8 ottobre che ha visto riunirsi i tre membri del Consiglio di Amministrazione dell'ex consorzio Mario Negri Sud. Ovvero Silvio Garattini, presidente per il Negri Milano, Enrico Di Giuseppe Antonio, vicepresidente per la provincia di Chieti e Emilio Nasuti per la regione Abruzzo. Da ora soci alla pari, la trasformazione in fondazione è stata conclusa dopo un lungo anno di iter burocratico amministrativo, una scelta giustificata da maggiori opportunità per il reperimento di fondi e progetti di ricerca. Opportunità che per i 110 dipendenti rimasti, al 50% di cassa integrazione scaduta a settembre e con sei mesi di stipendi arretrati, significherebbero garanzia di futuro. Si respira aria di delusione nei laboratori di Santa Maria in Baro. I sindacati di categoria di CGL e CISL sono stati ricevuti dal CDA che ha chiesto loro di rinnovare la cassa integrazione in deroga. Tutto qui, nessun accenno alla tanto attesa e agognata strategia di rilancio del centro ricerche, tra i più prestigiosi a livello nazionale come testimonia l'indice di impact factor delle pubblicazioni scientifiche. In queste settimane è continuata l'emorragia dei ricercatori che la politica tanto declama di voler arrestare. Nel frattempo i dipendenti restano col fiato sospeso. Per far partire la neonata fondazione mancano il direttore scientifico e quello amministrativo. Non c'è più tempo. I sindacati chiedono un rilancio effettivo e non fittizio. Tra due settimane è prevista una seconda riunione del CDA, con la speranza, dicono Aliprandi e Magnifico, di iniziare a vedere finalmente un orizzonte limpido anziché continuare a navigare a vista.